Non c'è qualcuno da stare a me davanti, non so Punta piedi Una volta è bellissima Non c'è nessuno E vai, io so Oh È il secondo giro Mi ricordo che c'era una scena con un salto E poi la dovevo vedere la c***a Non c'è nessuno E poi lauttate O questa è diversa No, 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 teniamo qui dentro, teniamo qui dentro. Tutta qua? Tutto il video? Ah, no, aspetta, aspetta. Spero che non si è capito. Eh, dobbiamo dire una mano di metterla su lì. Penta, adesso c'è il salto, devi venire giù. Allora, dopo, non usare, dopo quello funziona, se senti che può venire. Grazie. C'è un salto. Si, ma mi hai fatto la foto con la boccanella. Ma la cosa è passata. Abbiamo il video, tanto. No, non c'è stato, aspetta.